Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentornati o benvenuti. Oggi un video che volevo fare davvero da tanto tempo, perché questi profumi sono i due profumi negli ultimi mesi che hanno ricevuto più complimenti e che hanno una scia persistente, un sillage davvero molto 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 intenso. Sono due profumi agli antipodi, sia per tipologia di costo e sia per note olfattive. Io li amo tutti e due e vi dirò molto sinceramente che preferisco quello low cost, perché è un profumo che riesco a sfruttare meglio, è un profumo che posso indossare in ogni occasione, in ogni contesto, in ogni ambiente. L'altro è un profumo abbastanza complicato, bellissimo, stupendo, io l'ho ricevuto in regalo, ma comunque non sempre portabile. Allora, il primo profumo di cui vi voglio parlare, raccontare, è questo, Rituale Rosso di Amarantus Herbis, un brand di Siena. Il mio cugino è andato a Siena l'anno scorso, è entrato in questa bellissima profumeria e gli hanno consigliato questo profumo, che al momento a lui è sembrato veramente ideale, ottimo, una profumazione stupenda, però è molto 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 persistente e quindi non faceva al caso suo e ha pensato di regalarlo a me, perché io amo i profumi, tutti, 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 tutti. Ebbene, io non conosco questo brand, non ne ho sentito parlare, non sono poi però andata neanche a ricercare nessun video, nessuna informazione per non farmi poi coinvolgere in parole ed impressioni che non fossero le mie. Io, lo sapete, non sono un'esperta, sono soltanto un'appassionata, un'amante dei profumi, tutti i profumi, di nicchia non ne ho quasi nessuno, forse due, se li vogliamo chiamare di nicchia, ma non con questo prezzo. E non spenderei 130 euro per questo 50 ml, perché lo sfrutterei davvero ben poco. È un profumo molto 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 impegnativo. Sono andata quindi a fare qualche ricerca sul loro sito e c'è questa bellissima descrizione che già ve lo presenta molto molto bene. Specchio specchio delle mie brame, una pozione misteriosa, un concentrato di seduzione e sensualità, bellezza fuori dal tempo, archetipica, il mio tributo alla magia della donna. Un buche radiante, un sillage potente ma soave al contempo, carico dei sentori di maggio, ricco di polline e tocchi fruttati. La base è levemente vintage che unisce l'avvolgenza di un accordo ambrato e cremoso per creare quel sentore di rossetto che si educe da sempre. Allora, come piramide olfattiva è molto carica. Peonia, gelsomino, rosa, centifoglia, ilang, estra del Madagascar, accordo rossetto rosso, lampone, eliotropio, ambra, fava tonca, vaniglia e muschio. E' un profumo che in tanti definirebbero bombazza, pazzesco, da centellinare, un profumo che non è per tutti i giorni, che non è per tutti gli ambienti, che non è per tutte le occasioni, preferibilmente da usare all'aperto, perché io, come sono e mi conoscete, avida e vi profumo, la prima volta che l'ho spruzzato, non lo spruzzo neanche perché è una cosa micidiale, è uno spettacolo, e vi stavo dicendo, la prima volta che l'ho spruzzato ne ho fatto quattro spruzzi, mi stava venendo mal di testa. E' fortissimo, è potente, è persistente, sensuale, avvolgente, lo definirei un profumo opulento, nella sua bellezza del termine. Va usato centellinato, se usato in maniera impropria, può davvero diventare pericoloso e fastidioso, però è bellissimo, è bellissimo, davvero. Allora, io ci sento proprio questo bouquet così intenso, ma molto intenso di fiori, questo gelsomino, una rosa potente, potentissima, che insieme a tutte queste note, ti fa veramente pensare a un profumo elegante come il rossetto rosso. Il rossetto rosso che io porto veramente poco, è per me il simbolo dell'eleganza e della donna di classe. Io su di me non lo vedo, ogni tanto lo metto, ma faccio proprio fatica. Vabbè dai, lo spruzzo perché due spruzzi sono più che sufficienti. Mamma mia. Buonissimo, c'è questo intenso, intenso, intenso connubio di gelsomino rosa. Mamma mia. Egliotropio, ambra. E questi sono, secondo me, i sentori che percepite nelle prime due ore, perché questo vi dura 24 ore, ma 24 ore veramente è un profumazzo. Poi, verso sera, ecco io ho fatto un po' di esperimenti, verso sera esce un po' la dolcezza di questo profumo. Prima è una bomba atomica, poi diventa leggermente più leggero, più morbido, con la vaniglia, la fava tonca, diventa leggermente più dolce, ma rimane per me un fiorito pazzesco. Ma, pazzesco, veramente, se usato a mo' di doccia, come faccio di solito, è pericoloso e fastidioso. Quindi, assolutamente no. Io l'ho ricevuto in regalo ad aprile e maggio dell'anno scorso. Sono già arrivata a metà, era nuovo. E vi giuro che l'ho usato. L'ho usato, non al lavoro, perché potrei far morire la mia collega e il mio capo, ma l'ho usato in momenti in cui ero fuori all'esterno a fare delle passeggiate, oppure comunque sono andato a una mostra in un luogo davvero molto grande e lì ne ho fatti due spruzzi ed è bastato. Però è veramente, veramente buonissimo. Un profumo da grande occasione. Quasi uniche, diciamo. Che va veramente centellinato. Però, secondo me, è un profumo spettacolare. Io non ne ho mai sentiti di così potenti. È la prima volta che mi capita. Probabilmente io non sono abituata comunque ai profumi di nicchia. È quasi una mia scelta, perché comunque i soldi che spendo per comprare 5 profumi low cost li potrei investire in un profumo di nicchia. Ma per l'uso smodato che faccio io dei profumi, ecco, il profumo di nicchia deve essere così che mi dura 10 anni. Gli altri mi durano ovviamente molto molto meno, ma mi sento meno in colpa se poi li ricompro. Ma veramente un profumo da scoprire. La boccetta, visto il costo del profumo, mi sembra abbastanza anonima, ma io ho pensato, e anche il tappo niente di eccezionale, non mi fido neanche a tenere solo il tappo. Veramente un profumo molto pulito, molto essenziale, però magari è anche la scelta del brand, visto l'apoteosi che c'è in questa boccetta. Ecco, il secondo profumo, e voi direte, ma devi fare sto paragone, Eli? Sì, sì, lo faccio. Lo faccio e come questo paragone? Acqua Fresh di Bellini. Un profumo che trovate al discount, il Lidl o la Lidl, che ho comprato l'anno scorso. L'ho comprato perché volevo regalarlo a Mattia, ma Mattia questo non l'ha mai visto neanche in cartolina. Perché? Perché mi è piaciuto subito, è uno dei profumi che ho più utilizzato quest'estate e al fine dell'estate, settembre, ottobre, in autunno. Per fortuna è sempre in linea permanente alla Lidl e quindi lo vado a ricomprare la prossima volta che ci faccio la spesa. Dicono che sia l'equivalente o il yup di Acqua di Gio di Giorgio Armani. Io Acqua di Gio di Giorgio Armani maschile non l'ho mai sentita, ma tanti miei amici, ma tanti, credetemi, nei luoghi che frequento, quindi la parrocchia, l'oratorio, quando quest'estate abbiamo fatto la festa dell'oratorio, mi mettevo questo profumo perché è un profumo fresco, è un profumo frizzante. E più di una persona mi ha chiesto ma questo il profumo che indossi è Acqua di Gio di Armani? e io dicevo no, è Acqua Fresh della Lidl e tutti si sono complimentati. È un profumo che lascia una scia davvero di tutto rispetto ed è il profumo che quest'anno su di me ha ricevuto più complimenti. Io non ho trovato nessun riferimento a questo profumo e quindi sono andata a scaricarmi la piramide olfattiva di Acqua di Gio. Che dice? Allora, le note di testa sono lime, limone, bergamotto, gelsomino, arancia, mandarino e neroli, un tripudio di agrumi. Le note di cuore sono note marine, gelsomino, calone, che non so cosa sia, pesca, rosmarino, fresia, giacinto, ciclamino, violetta, coriandolo, noce moscata, rosa e reseda, che anche qui non so che cosa sia. Le note di base sono muschio bianco, legno di cedro, muschio di quercia, paciuli e ambra. Allora, io sento tantissimo e per tutta la durata di questo profumo che metto alla mattina e alla sera, risento ancora, la parte agrumata, una parte agrumata quasi amara. Poi ci sento una parte frizzantina che potrebbe essere data dalla lime, dal bergamotto, dal limone, l'arancia magari e il mandarino sono un po' più dolcini. Questa parte è veramente molto, molto fresca, molto frizzante, molto briosa, molto ariosa, molto aperta, che me l'ha fatto amare tantissimo. Questo è davvero uno dei profumi che io ho usato di più. Questo è un 100 ml e l'ho pagato 5,99 euro. È per questo che vi dico che preferisco i profumi di un costo chiaramente inferiore low cost, ma anche sui 20-25 euro, perché io ne uso tanto e mi sento appunto meno in colpa e me lo posso ricomprare tranquillamente. Poi, dopo le prime due orette, quando ce l'ho sulla pelle, si sente quella parte un po' legnosa, legno di cedro, muschio di quercia, muschio bianco. La parte fiorita io in questo profumo non la percepisco, se non leggermente nel rosmarino, sento il rosmarino che è comunque una nota molto fresca, molto piacevole, e il ciclamino, perché il ciclamino è una delle note che mi piacciono di più e che io percepisco di più nei profumi. Il ciclamino è uno dei miei fiori preferiti. Il ciclamino, quello però, non da vaso, quello che troviamo nel bosco. Adesso qui con quest'altro profumo che mi inebria. Mamma mia! È la gioia, la felicità fatta profumo. È limonoso, agrumato, fresco, una brezza marina, sembra quasi di essere in riva al lago, perché al mare io non ho molta esperienza, ma ho il lago sotto casa, di essere in riva al lago in quelle giornate di primavera, davvero con un sole bellissimo e con una luce che ti illumina, che ti invade, che ti porta anche quasi un po' le note del lago. Per me è buonissimo, è veramente buonissimo, un profumo che vi consiglio per veramente il prezzo piccolo che ha, se lo volete provare, se poi magari avete anche Acqua di Gio, di Giorgio Armani da uomo, fatemi sapere se anche voi, come i miei amici, perché io non ho potuto testarlo, se anche voi, come i miei amici, trovate questa grande somiglianza. è secondo me un piccolo gioiellino che per 5,99 euro vi consiglio, questa volta ve lo consiglio proprio di andare a provarlo. È un profumo definito maschile, come sapete io non faccio differenza tra profumi maschili e profumi femminili, per me sono tutti buoni e tutti possono usare quello che più vi piace. Questo è definito e comunque lo trovate nello scaffale dei profumi maschili della Lidl, ma ragazzi, questo ne vale veramente la pena se amate una tipologia di profumo così. È un profumo meraviglioso, meraviglioso, mamma mia, quanto è buono, quanto è fresco, queste sono le ultime spruzzate che darò in questa settimana e poi lo vado a ricomprare e prima che me lo tolgano per 5,99 euro quasi quasi ne compro anche due e magari lo faccio provare anche a Mattia visto che glielo sottratto ancora prima di regalarglielo. ebbene io vi ho anche oggi parlato alla mia maniera di profumi vi ricordo che ogni persona ha un naso diverso una percezione diversa quello che sento io non è quello che sentirete voi il pH della mia pelle trasmette qualcosa di diverso io sono anche una fumatrice e mi rendo conto che alcuni profumi hanno veramente delle note che percepisco soltanto io altri non le sentono questo fa anche la differenza lo so che non è una cosa positiva ma d'altronde sono una fumatrice e quindi lo dico cambia l'umore cambia come la nostra pelle si scalda io sono in menopausa quindi ho una percezione completamente diversa di alcuni profumi cioè ci sono veramente non è che il profumo siccome piace a me piace anche a voi e quello che piace a voi piace anche a me in generale come tutte le cose però ci sono davvero tante cose che fanno sì che un profumo possa avere un certo tipo di pensiero per me e per altri no come ovviamente anche nei vostri confronti io vi saluto spero così di avervi fatto conoscere un profumo che io sinceramente non ho mai visto su questi canali ma non ho neanche cercato per non farmi influenzare e invece questo piccolo gioiellino che secondo me vale veramente la pena di provare perché è veramente fantastico con questi due profumi uno di nicchia e l'altro low cost con due famiglie olfattive completamente diverse io ho ricevuto tantissimi complimenti con questo vi abbraccio vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata a presto ciao ciao